Da giovedì a domenica inizia Beerbables e finalmente torniamo su strada. Gli ore sono dalle 17 a luna il giovedì e venerdì, dalle 12 a luna invece il sabato e domenica. Ci saranno 31 birrifici, quindi 151 spine, più di 200 birre da poter degustare, punti street food e prodotti agroalimentari. Come funziona invece per i biglietti? L'ingresso è libero, poi ci sono biglietti di degustazione? Allora, l'ingresso sarà gratuito e si può fare una degustazione acquistando il bicchiere di Beerbables e successivamente i gettoni. Con un gettone si può degustare una birra da 0,20 e con due gettoni una birra da 0,40. Quali birrifici ci sono? Sono tutti siciliani o abbiamo anche birrifici fuori dalla regione? Abbiamo più di 15 birrifici siciliani e anche birrifici fuori regione, dal Piemonte, dalla Calabria, dalla Lombardia, dal Veneto, un po' tutta Italia. Invece per quanto riguarda la birra artigianale, insomma, volevo capire se c'è qualche birra particolare, qualcosa che è poco conosciuto al pubblico palermitano. Allora, le birre sono talmente tante che in realtà molte ancora non sono così conosciute al pubblico palermitano. Ma ci sono anche birre nostrane prodotte con nostri prodotti agroalimentari, come ad esempio la birra al bicocchio di scillato e alla manna. Quindi ci sono delle chicche, diciamo, sia nostrane che internazionali. Chiudiamo invece con soltanto i riferimenti. Pagina social, sito web. Chi vuole arrivare già preparato, cosa deve fare? Allora, basta andare su Facebook o su Instagram, cercare Beer Bubbles e la troverete tutte le informazioni, sia sul festival, quindi sulle degustazioni autonome che si possono fare, sia sui seminari e sui workshop che faremo anche in collaborazione con l'Università di Palermo.